Buongiorno, buon sabato 10 aprile, tra poco la rassegna stampa di Omnibus per andare a scoprire come aprono oggi i giornali in edicola con gli argomenti ovviamente più dibattuti, neanche a dirlo, è chiaro che i dati della pandemia continuano a tenere banco non soltanto sui quotidiani, ma insomma se ne discute, si analizzano e lo ha fatto sicuramente il Comitato Tecnico Scientifico che ha dato in là alla declassificazione dei sei regioni che torneranno in arancione da lunedì prossimo, quindi un'Italia che comunque in virtù dell'indice R su T che si è abbassato lo 0,92% inizia a vedere qualche spiraglio, c'è un lento flebile calo dei contagi, questo sicuramente grazie alla campagna vaccinale, sicuramente grazie anche alle restrizioni che stanno caratterizzando questa seconda ondata, questo periodo così complicato. E a proposito di vaccinazioni, il generale Francesco Figliuolo, il commissario straordinario dell'emergenza ha recepito le indicazioni fornite dal Premier Draghi in sede di conferenza stampa giovedì scorso, stilando un nuovo piano vaccinale, un'ordinanza che prevede delle priorità anagrafiche, gli over 80, gli over 70 e a scendere poi tutte le classi anagrafiche, insomma una campagna vaccinale che continuiamo a dirlo ormai da tempo in memore, è l'unico strumento per sconfiggere il virus che sta creando veramente grossi problemi sotto tutti i profili. Allora iniziamo la lettura dei giornali in edicola con la nostra prima parte di Rassegna Stampa, iniziamo dal Corriere della Sera, Italia in arancione, ecco cosa cambia. I nuovi colori da lunedì, Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna in rosso, Bisco, Banchi Italia, pochi vaccini, freno alla ripresa, è evidente che se non c'è una vaccinazione di massa non è possibile poi riaprire e riattivare le attività economiche. Scuola, negozi, spostamenti, prime riaperture per sei regioni, c'è la Lombardia, cala l'indice R su T, quattro regioni in rosso, Campania, Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, il resto d'Italia si veste d'arancione, riaprono i negozi, parrucchieri, centri estetici, diventano liberi inoltre gli spostamenti all'interno del proprio comune. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, pochi vaccini, questo frena la ripresa, l'abbiamo visto già nel sommario del titolo. L'allarme per le scorte, i conti del commissario, il dossier, i vaccini sono quasi finiti, 3 milioni servono per i richiami, ma il commissario Figliuolo vuole 500 mila iniezioni al giorno, come con 10 milioni di dosi disponibili. Entro il mese, ancora dalla Corriere della Sera, la direttiva di Figliuolo, appunto alla quale facevamo riferimento, per il piano vaccinazione le regioni dovranno dare precedenza assoluta d'ora in poi agli over 80 e alle categorie fragili, questo in base ad una direttiva elaborata dal commissario straordinario Figliuolo, per l'appunto, ed è la diretta conseguenza delle parole del capo del governo Mario Draghi di due giorni fa. Ma dal Corriere della Sera non possiamo non sottolineare la notizia ieri che ha suscitato commozione Cordoglio in tutto il mondo, non soltanto in Gran Bretagna, perché è scomparso il principe consorte Filippo d'Edimburgo, il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni, addio a Filippo sempre un passo dietro la regina, qui è una foto dei due coniugi reali, il principe è morto a 99 anni, ruolo di lusso ma non facile, la sua morte chiude un'epoca, quelle lettere da spirito libero inviate alla triste Lady Diana. Sempre dal Corriere della Sera si parla anche di politica, c'è questo asse Letta Salvini, così lo definisce il Corriere della Sera, l'incontro, la strategia di PD e Lega, nel giorno in cui Enrico Letta incontra Mario Draghi, il segretario del PD, blinda l'esecutivo insieme a Matteo Salvini, un'ora di faccia a faccia, il cui senso è non farsi del male. Le idee restano opposte, ma si può proseguire uniti per il governo, il perno del patto e il decreto per le imprese. Lasciamo il Corriere della Sera, poi ci torneremo con le pagine interne, vaccini tutto in 10 giorni, scrive La Repubblica, titolo d'apertura, serve una terapia d'urto, ancora troppi morti, il generale Figliuolo impone ai governatori di accelerare l'utilizzo di 3,2 milioni di fiale nell'ordinanza, priorità assoluta agli over 80, poi settantenni e sessantenni sanitari, scatta norma antifurbetti. Professor Mantovani, dovremmo proteggerci per anni, l'Italia produca le dosi. Poi il punto di Stefano Folli, che ritorna sulle parole di Mario Draghi, quando giovedì sera, Draghi la nuova politica europea, questo è il titolo, quando giovedì sera Draghi a dato del dittatore presidente turco Erdogan, ha espresso in modo esplicito quello che quasi tutti i governanti europei pensano eppure si guardano dal dire, questo l'incipit naturalmente del commento a firma di Stefano Folli sulla Repubblica in edicola oggi. Ci fermiamo, pubblicità, poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Di nuovo buongiorno, seconda parte della nostra rassegna stampa, siamo ancora sulla prima pagina di Repubblica, per altre due notizie, questa soldi ai partiti, inchiesta open, indagato per corruzione l'ex ministro Lotti, Luca Lotti è stato ministro dello sport nel governo Gentiloni e poi, e poi Filippo, l'uomo che visse all'ombra della regina con un ricordo, un commento di Natalia Aspesi. Lasciamo la Repubblica, andiamo a vedere la stampa, ecco la stampa in prima pagina, vaccini verso il rinvio, apre così delle seconde dosi, raddoppiando l'intervallo per i richiami vaccinazioni più veloci, da lunedì l'Italia diventa più arancione, c'è un dibattito a livello scientifico appunto sulla possibilità di allungare i tempi fra la prima e la seconda vaccinazione per quei farmaci che prevedono appunto due somministrazioni. Intervista Bonaccini, il presidente della conferenza delle regioni uscente, le regioni non hanno colpa per i ritardi, non ci arrivano le fiale previste. Il commissario Figliuolo scrive la stampa, vara l'ordinanza che detta alle regioni, le priorità sui vaccini, over 80, poi due migliori vulnerabili, le persone tra 70 e 79 anni, infine quelli tra 60 e 69. Locatelli, coordinatore del CTS, propone il rinvio delle seconde dosi. Bonaccini avverte, e l'abbiamo già visto, insomma che mancano i vaccini. Addio a Filippo di Edimburgo, dopo 73 anni Elisabetta resta sola, 73 anni di matrimonio e qui vediamo la foto, appunto l'annuncio e l'omaggio a Londra, al principe Filippo, insomma per chi un po' conosce Londra ma poi c'è anche la didascalia, è facile individuare la zona di Piccadilly Circus e appunto che celebra così la scomparsa, ricorda così la scomparsa di Filippo di Edimburgo. Andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, eccola qui, la fine del cattivismo, i lavoratori di Amazon e Alabama respingono il sindacato, la visione libera dell'America di Biden vede corto ancora una volta, questi titoli più significativi, assieme a Filippo l'ultimo principe sulla prima pagina del foglio, la fine del cattivismo a chi si riferisce, Draghi non gliene fa passare una, Giorgetti lo fa sentire fuori posto, Meloni gli fa concorrenza insomma Matteo Salvini si è trasformato nella posamen della politica, sulle aperture offre a Letta una strada anti sciacalli. Così il foglio, vediamo la prima pagina di domani, tutt'altro tema trattato in prima pagina con l'inchiesta sull'ONG, hanno intercettato avvocati e senatori le anomalie dell'indagine dei PM di Trapani, dai documenti dell'inchiesta emerge che almeno una quindicina di giornalisti venivano ascoltati, sono stati spiati anche cinque legali e manconi del PD, mentre parlava con un prete che aiuta i rifugiati, così domani oggi ne dicola però. Andiamo a vedere la prima pagina anche di Avvenire, Arancione Speranza scrive il quotidiano della conferenza episcopale, Arancione Speranza dicevamo, meno restrizioni, le scuole riaperte, rimangono in rosso Valle d'Aosta, Sardegna, Campania e Puglia, sale la spinta per le riaperture, gli esperti, superato il picco, tasso di positività ancora alto, 460 morti. Poi la denuncia sulla prima pagina di Avvenire, allarme carceri, ci si contagia di più, a rischio le madri. Lasciamo anche Avvenire, andiamo a vedere il manifesto, eccolo in prima pagina il manifesto, vertice europeo e gelo sul divano turco, centropagina campeggia la foto di Mario Draghi, lapsus freudiano, gli psicologi a Draghi, non siamo furbetti, è il governo che ha deciso l'obbligo vaccinale per noi, campagna rilento, ancora sotto i 300 mila al giorno, quadro epidemiologico, in lieve miglioramento, RT a 0,9,2, sei regioni passano in arancione e la Sardegna va in rosso, insomma tutti puntano l'attenzione proprio sulla Sardegna che nel giro di un paio di settimane è passata dalla zona bianca, unica regione ad aver beneficiato di questa colorazione, addirittura alla zona rossa. Lasciamo il manifesto, andiamo a vedere il messaggero, eccolo qui, riaperture, il piano di aprile, è l'ipotesi della via libera per bar, ristoranti e cinema dal 19 dopo una verifica sui contagi, figliuolo alle regioni, ora vacciniamo solo gli anziani, stoppa la priorità per tutti gli altri e a centropagina il principe è discreto, quel passo indietro che non fece Diana la scelta della Duca. In taglio alto, immediatamente sotto la testata, una notizia in qualche modo di sport, ma insomma che si lega al Covid perché il focolaio che si era acceso all'interno della Nazione di Calcio azzurra ha coinvolto anche De Rossi, contagiato, finisce allo Spallanzani per una polmonite, anche Daniele De Rossi appunto è tra i contagiati per questo cluster che si era acceso all'interno del gruppo azzurro. L'intervista che vi segnalo e la potrete trovare all'interno del messaggero ha Damato, l'assessore regionale alla sanità della regione Lazio, produrre vaccini farà ripartire il centro Italia e certamente insomma personaggio da seguire con attenzione perché sta gestendo e ricordiamo il Lazio insieme al Veneto è in testa alla classifica delle regioni virtuose proprio per numero di somministrazione efficace del piano vaccinale. Poi ancora dal messaggero niente più all'Italia, ITA perde il marchio ma si tiene gli slot, l'Unione Europea vuole l'addio alla tricolore sugli aerei, la campagna, la compagnia conserva diritti su Linate e Pilote. Ancora dal messaggero un'altra notizia riguarda un caso che abbiamo seguito per lungo tempo e con grande attenzione, risarcimento un milione di euro e l'India chiuderà il caso dei due Marò. Si chiude il caso dei Marò, la Corte Suprema indiana, a fronte di un milione di euro di risarcimento. Lasciamo anche il messaggero, vediamo come apre oggi il fatto quotidiano, DL Draghi, vaccini a elettricisti e portieri, ma che furbetti tutte le falle del decreto del primo aprile. Polemica l'apertura del fatto quotidiano, salta fila per legge, sindacato infermieri e l'ultima legge del Premier che allarga la platea. Già basta con figliuolo dopo Arcuri, l'Italia perde terreno in Unione Europea, niente accelerazione, anzi record di morti, 718. Questo è un dato che risente dei 258 decessi delle settimane scorse che la Sicilia ha contabilizzato con evidente ritardo. I morti di giornale sono comunque un'enormità. Ieri contabilizzati, usiamo questo termine improprio e ce ne scusiamo, sono stati 460. Allora, abbiamo lasciato il fatto quotidiano, vediamo anche il sole 24 ore, eccolo qui, numeri per riaprire in tre regioni, ipotesi di riavvio per tutte le attività dal 30 aprile, pronte solo Veneto, Lazio e Molise. Ma dal sole 24 ore prendiamo spunto per tornare su un caso che sta caratterizzando il sistema diplomatico, i rapporti, capisco le critiche, ma ho voluto evitare incidenti. Mi ha tolto il sonno a parlare a Charles Michel, presidente del Parlamento europeo, protagonista diciamo suo malgrado del caso appunto di scortesia avvenuto ad Ancara martedì scorso nei confronti della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, defilata, insomma si è dovuta accomodare in una posizione defilata nel corso appunto dell'incontro con il presidente turco Erdogan, un caso che poi si è allargato con la definizione dittatore nei confronti di Erdogan pronunciata da Mario Draghi. Velocemente vediamo anche la prima pagina del giornale, così i medici Novax boicottano i vaccini. Prove di congiura, denuncia il giornale. Su Facebook un profilo con iscritti 17 mila operatori del settore. Blocchiamo gli ospedali. Il governo basta priorità a prof e militari. Addio al principe. Perfetto. Vediamo anche Libero, eccolo qui, Miracolo Draghi si sveglia, tratta per comprare dosi di Moderna, alza il telefono e chiama gli amici americani. Così Libero oggi in edicola, non ci fermiamo perché è arrivato il momento di dare spazio alle notizie del meteo con Paolo Sottocorona e poi la prima edizione della Tg La Sette. A dopo. Sì, buongiorno. Questa è la situazione della prima parte della giornata di oggi. Già nuvole che sono entrate al nord e in parte al centro cominciano ad arrivare anche le precipitazioni ancora deboli in prevalenza perché il colore verde sapete che corrisponde a piccolissime quantità di pioggia. Prendono il nord ovest, più che altro il Piemonte, la Valle d'Aosta, parte della Lombardia, la Liguria, l'alta Toscana, proprio questa zona qui. Sul resto del nord arriva qualche nuvola e al sud ancora c'è lo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio questo accenno di maltempo si concretizza in qualcosa di più esteso perché qui si prende tutto il nord e anche tutta la Toscana e sul settore occidentale, segnatamente in Liguria, i fenomeni possono essere da moderati a localmente forti. Non cambia molto invece sul resto del centro e al sud perché più che qualche nuvola non c'è. Arriviamo alla giornata di domenica, vedete che le zone di maltempo intenso prendono ancora una volta Liguria e Alta Toscana, poi prendono la parte più settentrionale, quindi andiamo anche in zona alpina, lì ovviamente saranno nevicate, però si scende fra Alto Piemonte, Alta Lombardia, ma la Lombardia si va anche un po' verso la pianura e lì ci possono essere fenomeni intensi, meno intensi ma molto presenti queste piogge anche sul resto del nord e del nord-est, restano in prevalenza deboli sulla media bassa Toscana, prendono un po' con l'Umbria, un po' con le Marche e se no vedete che la separazione è proprio molto netta. Vediamo anche la giornata di lunedì in cui questo maltempo si intensifica, si estende, si intensifica su tutto il nord e a questo punto prende anche il centro con fenomeni meno intensi e risparmia ancora una volta il sud. I due flash finali, le temperature minime, salite più al nord che al centro sud direi, quindi il recupero è un po' sbilanciato in qualche modo, lo stato dei mari tendono a diventare da molto mossi ad agitati, quelli occidentali da lì arriva il maltempo, quindi questo è anche abbastanza normale. I venti sono anche forti meridionali, l'Adriatico, lo Ionio, il Basso Tirreno invece restano ancora poco mossi. Se volete prossimo appuntamento alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.